e allora eccoci qui buon pomeriggio di nuovo siamo pronti a cominciare insieme vedo già collegata con noi la dottoressa vanda diaz merced buon pomeriggio good afternoon buon pomeriggio grazie è un piacere grandissimo essere qui tutto nostro vanda veramente dottoressa è un grandissimo piacere averla qui con noi mi dispiace che l'italiano è male io non bisogno non bisogno non bisogno non bisogno non non bisogno essere irrespetuosa non so come dico questo italiano no no io io comprendo ma il mio spagnolo è male uguale ma però abbiamo con noi patrizia patrizia cegna dell'ufficio relazioni internazionali dell'uicci che ci aiuterà e per la traduzione buongiorno patrizia grazie salve grazie mi manchi moltissimo pisa mi manchi moltissimo italia io devo dire questo primo ammio ammio moltissimo mi gente mi gente nelle strada mi gente di supermercati mi gente di la farmacia mi manchi moltissimo moltissimo queste queste intervista e è importantissima per me anche per noi perché sei un esempio importante per le persone non vedenti che vogliono realizzare un sogno I'm going to translate into English is that ok si si te puoi io io capisco ok 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 allora io continuo a parlare in italiano poi se abbiamo difficoltà cioè patrizia che ci aiuta e quindi appunto è molto importante per noi anche questa intervista perché perché lei è un esempio veramente di una grande forza di volontà nel riuscire a raggiungere propri i propri sogni no perché la tua storia è una storia di passione come nasce la passione per l'astronomia e quali sono le difficoltà che hai incontrato per per diventare un astrofisica io ero il primo io poteva io potevo usare usare mi occhio come come l'altra gente vero io ho perso io ho perso la vista mi la vista e dopo ho iniziato a perdere la vista quando io ero io ero adolescente quando io ero 15 14 anni perché io sono di quando di bimba la bambina e soffre di diabete quindi ok quindi insomma è per questa la motivazione che l'ha portata alla cecità adesso c'è che assoluta o ipovedente o un po è assoluta io non posso io sono e che io moltissima volta io dico ipovidente perché io sono con 5 per cento 5 per cento di divisione in un occhio anche io non posso percivere niente nel nel messo nel centro dell'occhio e per 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 il lato periferia ok la parte periferica non vede a un 5 per cento ma al centro non vede nulla quindi è come diciamo tecnicamente è ipovedente ma in pratica è cieca assoluta è cieca assoluta e perché perché non posso leggere devo usare il bastone e perché che io non so il il dottore dice che sono cieca assoluta io dico ipovidente per essere rispettosa con l'altra con con l'altra l'altra gente anche e questa è mia identità vero io sono una una moglie ispana chi è chi è cieca assoluta e sono perfetta così come io sono e dopo che io ho perso ho perso la vista sì io 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 sempre aveva bisogno di essere di fare scienza di essere scienziata in scienza e dopo io aveva bisogno di essere dottorezza médico médico di base per aiutare per aiutare alla gente e questo perché mi madre mi famiglia e con disabilità tutta tutta mi famiglia e mi sorella e con disabilità fisica e sempre aveva bisogno e mi famiglia e noi noi siamo siamo è molto 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 povero senza senza possibilità senza soldi senza povero ha detto bene ha detto bene grazie e aveva bisogno di poter aiutare alla gente di potere bere il di potere fare vicino al dottore senza senza pagare vero e dopo quando ho perso la vista io non ho pensato non posso essere dottoressa perché io devo bere alla gente questo era era primo vero allora devi essere diverso però io e dopo ho pensato che io posso fare è un amico che ero il l'unico ero il l'unico un amico sapeva che mi vista ero ero peggiore 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 ogni giorno io non poteva fare moltissima cosa e senza senza aiuto e dopo da me soggiorno io non poteva avere andare 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 sola andare senza aveva bisogno di aiuto insomma perché la vista andava peggiorando e quindi c'era questa persona che era corrente no di questa situazione e che cosa gli ha consigliato di proseguire con gli studi lui mi ho torno a inglese si he showed me a radio telescope mi ha mostrato un radio telescopio che era capace di trasformare istantaneamente in suono quello che proveniva dal sole e da giove il nome era proprio radio giove e il nome era proprio radio giove e it would it would just change the potential the potential difference detected by the radio telescope into audio quindi questo strumento trasforma la differenza potenziale in suono non so se ho detto esattamente bene benissimo la mesura la mesura del telescopio in tempo reale e in tempo reale e in audio è una cosa per te in suono per te poter sapere e per te poter sapere se se e 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 se questo aumentava o diminuiranno se questo aumentava o diminuiva non non per poter fare e studio e e e not not for exploration but for monitoring and just to be alert to to the data quindi non per esplorare ma solamente per monitorare quello che accadeva Quando ho ascoltato quel suono, il mio mondo che stava restringendosi è come se si fosse aperto di nuovo. E io sentivo che il mio mondo si stava restringendo perché non ero abituata a fare uso dei miei altri sensi. Igualmente perché non percepivo le possibilità. E quando ho sentito questo suono, il mio mondo si è aperto in una maniera incredibile. E questo è quello che mi ha spinto a investigare se si potevano usare i suoni per studiare quello che avveniva nell'universo. E se era possibile utilizzarlo, come io potrei utilizzarlo e portare a altre persone ciegas o con altri stili di desempegno a fare astronomia? E se era possibile utilizzarlo, in che maniera io avrei potuto spingere altre persone con disabilità visiva non vedenti a farne uso? E da ese momento mi dedico quindi a investigare, in quel momento era radioastronomia, a investigare fenomeni in radioastronomia e simmetricamente a diseñare formas per che le persone in situazioni di discapacità anche potessero potessero apprendere l'astronomia potessero apprendere l'astronomia nel mismo aspetto di pratica che gli astronomi professionali e partecipare in qualsiasi aspetto che escojano partecipare. E quindi mi sono dedicata alla radioastronomia studiando questo anche le forme in cui altre persone con disabilità visiva potevano mettere in pratica nel campo dell'astronomia questa modalità. Mi dispiace, mi sembra che parlo in spagnolo, mi dispiace tantissimo, non aveva... Stiamo facendo un mix, ma Patrizia è bravissima. Patrizia brava, brava. Mi dispiace tanto. Lo spagnolo lo capiamo abbastanza, non ti preoccupare, anche se Patrizia non capisce qualcosa, magari la capisco io, quindi su questo riusciamo abbastanza a capirci, l'importante è il messaggio. Io ti voglio fare una domanda che mi sta particolarmente a cuore perché ho un amico astrofisico intanto che ti fa molti complimenti perché gli ho parlato di te e lui non ti conosceva, ha letto alcune delle pubblicazioni e ha detto che quello che fai è veramente incredibile. E ci teneva a farti i suoi complimenti. E poi mi ha anche detto che è un mondo molto difficile quello dell'astrofisica. Quindi per te che sei già donna, e di solito per le donne è già tutto più difficile, quanto è stato difficile inserirti in questo ambiente? Come hai fatto? Che consigli anche daresti alle donne che vogliono intraprendere la tua carriera? È difficile, è difficile e è più difficile per noi come donna e come donna con disabilità, vero? Mi consiglio è che non ti detengas. Non vi trattenete, non vi autosabotate potrei dire. Sì, non ti detengas. La astronomia, il campo della astronomia è un campo che sta cambiando, è un campo che si è concienzato, è un campo che si è concienzato, di le disegualdazioni che existono, existono, e è un campo che sta cominciando a enfocarsi, non solo in lavorare con le disegualdazioni che existono e existono, ma anche a stare pendiente di disegualdazioni che possono succedere in il futuro. Mi consiglio a le donne, a le persone con situazioni di discapacità, è che se stanno qui, se stanno qui, se stanno qui, se stanno qui, e non permettano che a niente di desanimare del deseo che loro hanno. Se stanno cambiando il foco, che sia una decisione che loro hanno fatto per gusto, e non una decisione a base di obstacoli socialmente imposto per il campo di lavoro. Ustedes tienen il futuro, il futuro in sus mani e la unica maniera che non vanno a perdere è non rindendosi. Io, per esempio, busquei buoni mentori, busquen buoni mentori. In mio caso, in l'Italia, l'Italia, a través del dottor Stavros Cazzanevas, che in paz descanse, che falleció hace más o menos... Vanda, vanda, just a moment, just a moment, so, Patrizia, could translate us what did you say? All'inizio diceva che l'astronomia si sta consapevolizzando delle disuguaglianze che ci sono all'interno e concentrarsi anche sulla disabilità, quindi, sulle disabilità sia quelle esistenti che quelle che possono sopravvenire in futuro nelle persone. E il consiglio che dava è che se si ha il desiderio di intraprendere una carriera, non si deve permettere che nessuno vi ostacoli, perché il futuro è nelle vostre mani, e quindi non arrendetevi, trovate dei buoni mentori che vi possano aiutare. E poi stava parlando del suo mentore. In Italia. So, Vanda, you're a mentore. Il dottor Cazzanevas, il dottore Cazzanevas, astrofisico, e poi il primo è un visionario, il primo uomo che ho visto l'uso di suono, di rumore, per fare riserciare nell'astronomia come una possibilità di verità, come una cosa che potrà fare meglio l'astronomia. e il dottore si fidò di me e mi ha portato all'Italia, all'Observatorio Gravitazional Europeo, non so come dico questo nell'italiano. Ha detto bene, ha detto bene, a Cascina. A Cascina, e mi ha portato là per poter lavorare nell'adiestramiento, nell'allenamento, devo dire allenamento? La formazione. La formazione, sì. La formazione, la pratica. Per la gente potere, per gli astrò, torno a spagnolo, los astrónomos che trabajan, che lavorano nell'Observatorio, loro non usano rumore, perché loro non saono come usare rumore. Il rumore aiuta. Noi abbiamo fatto esperimento che prova che il rumore incrementa il tono spagnolo. Il sonido aumenta la sensibilità. Il suono aumenta la sensibilità, il suono. De los astrónomos a eventos en los datos, che por naturaleza son ciegos a los humanos. Per dati che sono ciechi, diciamo così, invisibili all'occhio umano. Sì, all'occhio umano. Il rumore aiuta per aumentare la sensibilità a questo. Che succede? Loro non usa il suono, il rumore, perché loro non sa come usarlo. Se loro usano il rumore, io penso che loro hanno potuto cercare il cuoco nero moltissimo a mio primo, a quando lo hanno trovato. Anche il dottore Cazzaneva mi ha portato per sentire il rumore da mesura. che aveva, aveva, gente aveva studiato primo per comparare come sento il rumore, se posso cercare, prendere o cercare cosa che altri avevano cercato primo. Sì, io posso cercare cosa nuova, fare comparazione e per cercare un lavoro di come allenare, come ti ho detto, formazione, come formare agli astronomi che è in pratica, come allenare a questa gente che fare matematica con l'occhio della scuola, del liceo, della scuola facciamo matematica con l'occhio e dopo l'università, e dopo pratica come professionista. E dobbiamo, insieme, dobbiamo fare questa formazione. e abbiamo finito un primo lavoro che è la pagina dell'aereo, la gente può andare là, usare, vero, sentire e formarsi, formarsi per usare il rumore e dopo la gente può, per esempio, usare mesura della base dati dell'observatorio per sentire e studiare. Altre cose che il dottore Cazzaneva mi aveva chiesto era per fare un corso per gente e lui amava questo. Ero per gente con disabilità e gente che è 65 anni o più. Sì, con le persone con disabilità e con le persone più anziane, più grandi. più grandi. Perché, torno a un'españolo. Perché lui, lui, il c'è, perché s'ho비 obliga a ritirarsi temprano già sia per problemi con le pensioni, le lavoro è una situazione mondiale se le obliga a ritirarsi temprano e ci sono che per situazioni diversi sia sia familiari, sia sia perché i paesi hanno problemi economiche se le fa difficile lavorare e arrivano a in cui è molto più difficile trovare lavoro quindi a través di questi questi corsi, queste persone possono adquire un nuovo gruppo di destrezas e possono utilizzare questo nuovo gruppo di destrezas possono llevar questo gruppo di destrezas a la società e ponerlo in funzione e levantare il spirito emprendedor delle persone anche noi, le persone in situazione di discapacità se da di questa forma il primo il primo il primo il primo il primo il primo completamente inclusivo quando dico completamente inclusivo è che puoi es 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 in il corso, e praticare, e fare l'investigazione. Quindi grazie al dottor Castanella, che noi possiamo muovere, perché è molto difficile. Banda, non sentiamo... Ah, mi dispiace, io parlo, non parlo come... Non preoccupare, just a moment, su Patrizia. Allora, diceva che questo corso per le persone con disabilità e per le persone al di sopra dei 65 anni era... ci teneva molto il professore, perché queste persone, magari queste persone più anziane, sono obbligate ad andare in pensione presto e arrivano a un'età in cui è difficile poi trovare un altro lavoro. E comunque, attraverso questo corso, avrebbero potuto acquisire nuove abilità che potevano donare alla società. E anche acquisire uno spirito imprenditoriale. E per le persone con disabilità, questo era un corso totalmente inclusivo. Questo vuol dire che ce la si poteva cavare da soli, a seguirlo, e anche fare ricerche. Abbiamo scritto, scriviamo un libro che va da come si utilizza il sonido, come utilizzare il sonido, come utilizzare il sonido, come applicare lo che è brillo. Per una persona che nasce ciega, il brillo è solo una definizione. Lo traiamo al mondo della persona, lo che è il brillo, evoluzione estelare. E quindi arriviamo a l'hollo negli, facendo l'investigazione, utilizzando dati, Llevando a le persone, caminando con le persone a través del processo, di fare investigazioni e observando come le persone perciben i dati. Igualmente, se non lo permettono, io lo documento e scrivo uno quanti consello. questa persona ha fatto questo, le risultò, tal vez'e altre persone lo vogliono intendo. Ok, mi dispiace. Abbiamo scritto un libro, per esempio, su come utilizzare il suono, il brillo, non so esattamente come lo posso tradurre in italiano. Il brillo, in inglese? Brightness. Ah, proprio la brillantezza, la luminosità in generale. Luminosità, l'unitermine. L'evoluzione stellare, i buchi neri. E questa era, si camminava insieme con la persona, osservando come le persone percepiscono queste cose. E stava a prossimo. And we continue. Yes. E ora continuamos. We continue. Torno inglese e meglio per Patricia, vero? Patricia, mi dispiace che ho parlato in spagnolo. And we continue. The course has been meeting for almost a year and a half. And we continue meeting. We have became a family. Anyone is welcome is on Wednesdays at 11 a.m. and I'm in Puerto Rico right now. So it's 6 a.m. at home. But here in Puerto Rico, when I get to France, where I will be performing, continuing the work, it will be then, it will be my 10 a.m. but it's 11 a.m. in Italy. What happens is that we can practice at the same aspect of expertise as the best astronomer, as the most prepared astronomer. we didn't have the tools, neither the opportunity to get into the main practice. because as a woman, I had the tools and even having the tools for a while, not now, but for a while, it was very difficult for the field to accommodate my needs as a woman. Maybe shorter sentences if it's possible. Sì, forgive me. Sì, forgive me. Sì, forgive me. Sì, forgive me. Continuiamo il corso da un anno e mezzo. Siamo diventati una famiglia, magari anche se stiamo in diversi posti del mondo con diversi orari. Comunque, questo corso permette, insomma, di migliorare, di diventare migliori astronomi. Diceva che non aveva gli strumenti e le prassi. Se poi potessi ripetere, diciamo, il resto. La frase è, please, can you repeat the phrase? Sì, e te, may you repeat it, again, la, I didn't get what you said right now in Italian. L'ultima cosa che ho detto è che questo corso permette di diventare migliori astronomi e cosa succede quando non si hanno gli strumenti. Diceva che aveva gli strumenti ma non le prassi, ecco, era lì che ci siamo... hai capito, e se io parlo di Wanda come moglie, come donna, mujer. come donna, come donna. Io, se io sono una donna che puoi, che puoi bere, che puoi usare l'occhio, sì, e io poteva, io poteva, gli strumenti per fare astronomia ero, sì, e il campo della professione di astronomia non faceva, non faceva lo che doveva fare per io poter fare professionista in astronomia, per io poter essere un essere umano in astronomia, poter portare il mio contesto come donna all'astronomia. E forse pregiudizio, un po' di pregiudizio, vero, che la moglie deve portare bambino, che la moglie è con male, questo e l'altro. Allora, questo, questo è una cosa male, 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 perché gli strumenti ero, gli strumenti ero per noi poter fare astronomia. Nel caso della gente con disabilità, io penso, io sono donna, e io penso, non aveva instrumenti. L'astronomia, ho pensato che noi nunca, niente, noi abbiamo nessun interesse, nessun spazio. stia, nel campo della astronomia, che l'astronomia, non avevano, abbiamo un interesse, non avevano, non Pilotio, non avevano, pertinent to us. They never thought on the possibility of a blind person or a congenitali death and blind person growing interest in astronomy and wanting to perform. Quindi le persone con disabilità visiva non avevano, si pensava che non ci fosse proprio l'interesse per l'astronomia, che queste persone non avessero interesse perché gli strumenti c'erano, per le donne c'erano gli strumenti che potevano utilizzare, ma una donna con disabilità o le persone con disabilità non avevano questi strumenti a disposizione anche perché si pensava che non ci fosse l'interesse. Che non fossero interessati, infatti una delle mie domande, Evanda, era proprio questa e cioè tu hai studiato a Porto Rico, hai studiato in Italia, hai studiato in Inghilterra, insomma in Francia e dove hai trovato gli strumenti con maggiore, diciamo, la maggiore accessibilità allo studio e alla ricerca per una persona non vedente? Allora io trovo strumenti con maggiore accessibilità, trovo strumenti con maggiore accessibilità perché io ho fatto gli strumenti. L'hai fatto tu? Sì, sì, è per questo. Dopo da me moltissima gente lo faccio e ti puoi cercare moltissimo, ovvero anche il mio non ero il primo, 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 però ero il primo con accessibilità e per fare ricerca. Dopo di questo altre gente lo faccio, io faccio buon, buon, buonissimo lavoro che io dopo ho detto, ok, io mi fermo, non devo continuare facendo questo, io devo allora solo fare ricerca. Quando io ero in Italia, questo abbiamo andato moltissimo, 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 la strada lunghi, era lunga, era lunga, abbiamo camminato una strada, tanto, avete fatto tanto, però insomma c'è ancora tanto da fare, mi pare di capire. Quali sono infatti i tuoi progetti futuri? Adesso ti dedicherai esclusivamente alla ricerca o comunque continuerai ad aiutare le persone con disabilità? Io ho bisogno di fare due cose insieme, di fare ricerca in la Francia facendo lo che si le chiama rayos X, non so come dico questo in italiano, e bocchineri. I bocchineri? I bocchineri, sì. I bocchineri, i bocchineri, ok, ricerca sui bocchineri. Facendo onda gravitazionale in Francia e continuo facendo il lavoro per aiutare, per aiutare alla gente. Questo è l'assunto del pregiudizio, è un assunto che deve essere lavorato ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, con felicità, vero? Però io devo essere là facendo due cose. Per la gente non dimenticare che noi possiamo fare il lavoro, la donna può fare il lavoro, un lavoro benissimo, che il campo non deve essere chiuso alla donna e non deve essere chiuso alla gente con disabilità solo perché noi abbiamo altre forme di fare cosa. E perché il contesto della donna è diverso, la diversità è bellissima, è bellissima. e la pandemia era orribile, la pandemia era orribile, orribile, orribile. E che sofferenza, che sofferenza, che sofferenza, grandissima la pandemia. Una grande sofferenza, anche io devo dire che la pandemia di una forma difficilissima, con moltissima sofferenza, ha portato alla gente, alla gente che è il capo, a imparare che la gente può essere produttiva, la gente può lavorare moltissimo bene di altre forme, che la gente può lavorare dalla casa, che la gente può lavorare a altre ore del giorno. E la pandemia è una sofferenza grandissima, in diversi gradi, vero? Che sofferenza grandissima rispetto a tutti che hanno passato per diverse sofferenze. e una cosa che è successo è che ora ogni lavoro deve avere il permesso a qualcuna persona con interesse di poter lavorare così come la persona è, come un essere umano. Mi dispiace. Allora, allora Amanda, ma adesso tu sei stata la pioniera, no? E stai continuando in questo lavoro di portare avanti questo incredibile processo, quello di rendere accessibile questo lavoro a tutti, alle donne e alle donne con disabilità, gli uomini anche con disabilità naturalmente. C'è qualcuno già, qualche altro non vedente, che tu conosci e che ha intrapreso la tua strada? Sì, sì, benissimo. Io dico ui, però sì, moltissimo. Quando dico ui è un ui di felicità, di gioia. Sì, 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 studenti che mi scrive che bisogna essere parte di, essere nel corso, la gente del corso, sì, moltissimo, moltissimo studenti giovani, gente che non ha potuto fare lavoro perché ero con disabilità e non potevo fare nessun lavoro nella scienza. Sì, moltissimo, 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 moltissimo. E prima sono triste, ah, poverino, non ho potuto, però no, 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 non devo dire questo perché allora, oggi, noi abbiamo strumenti, noi abbiamo forma di fare questo. Allora, noi abbiamo prova scientifica di che noi possiamo fare questo meglio di lo che io faccio per cento di anni. L'astronomo, o astronoma, professionista, mi, sì, mi dispiace io, lo moltissimo. Bene, bene, quindi questa è una bellissima, bellissima notizia anche che diamo a chi ci ascolta e che magari, insomma, ha dei progetti, no, universitari. Naturalmente il percorso è quello di scriversi a astronomia. Io non so adesso questa facoltà se è in tutte le città, non credo, perché, insomma, è una facoltà molto particolare. Però il primo passo, il primo consiglio che tu puoi dare, Evanda, è quello proprio di scriversi ad astronomia e poi, evidentemente, si troveranno quelli che sono, diciamo, le strade accessibili per le persone con disabilità. Non ci sono. Sì, è per la donna, è per la donna, è per qualcuno, per qualcuno. E' accessibile per tutta, per tutta la gente. Se io sono convita, io lavoro per l'astronomia essere accessibile a ogni, a ogni e tutti. A ogni persona e tutti. Sì, certo, se si rende accessibile ad ogni persona significa che tutti possono naturalmente poi goderne, no? Questo è un discorso poi che noi facciamo molto spesso su tutto, anche sull'abbattimento delle barriere architettoniche nelle città. Quando si parla di accessibilità in realtà non si toglie nulla a nessuno, ma si dà a tutti di più. Sì, sì, è la, è la, è gli ostacoli più grandi, è la mentalità istituzionale. È quello. Istituzionale, sì, è la mentalità istituzionale. E noi facendo il lavoro senza arrendersi, senza arrendersi, che noi possiamo dimostrare che noi siamo parte, siamo parte del campo professionista. Io invito, non è facile non arrendersi, però io invito la gente a non arrendersi. A non arrendersi, ad andare avanti anche se è complicato. Perché, insomma, c'è, come dicevi tu, questa mentalità, no? Per cui effettivamente l'astrofisica sembra essere una scienza soprattutto legata, no? Alla vista. Invece tu ci raccontavi di quanto è anche importante il suono. Quindi... Sì, sì, e non lo dico dalla sedia della regina, non lo dico, io ero difficilissimo per me. Mi... Mi pro... Mi... La gente nell'università rideva da me. Come si chiama la gente che... Maestro nella università, come si dice? I docenti. Il professore. Docenti, io non potevo capire lo che lui diceva, ma la prossima volta diceva che non ero... Che io ho avuto mentore buonissimo che diceva non arrenderci, non arrenderci, Wanda, non arrenderci. Questa persona non sai, questa persona sai meno di te. Questa persona non deve essere là, così mi parlava, vero? Mi mentore dai Saku Ikeda ero importantissimo. Quando ho detto enfocati, non so come... Concentrati, concentrati, sì. Concentrati. Questo è il tempo e questo è il momento di vincere. Quando hai capito che ce l'avevi fatta, c'è stato un momento in cui hai avuto una grande soddisfazione, quando tutti i sacrifici che hai fatto, lo sforzo che hai fatto, ti sei resa conto che era stato utile, non era stato vano? Ah, quando noi abbiamo trovato i risultati di GLI esperimenti, mi dispiace per il galo, di GLI esperimenti di sensibilità all'occhio e all'orecchio, facendo uso di dati astronomico, abbiamo fatto esperimenti in dettaglio, benissimo esperimenti e quando abbiamo visto il risultato di questi esperimenti, che il rumore aiuta, abbiamo detto questa è la porta, questa è il scontrino, la porta. Questa è la porta, questa è la strada giusta, abbiamo indovinato la strada giusta. Immagino che ci saranno tante altre strade, Vanda, tante altre porte che andrai ad aprire e veramente noi ti ringraziamo per averci raccontato ed averci dedicato il tuo tempo, averci raccontato la tua professione con tanta passione e anche grazie per aver reso una professione accessibile alle persone non vedenti perché a volte forse il problema più grande è di non crederci abbastanza già normalmente. Poi quando si ha una disabilità c'è il rischio che questo possa essere accentuato, che si possa temere di non avere gli strumenti per arrivare a realizzare certi sogni, invece se c'è la volontà alla fine mi pare di capire che il tuo messaggio è che se vuoi puoi. Sì, sì, benissimo! E anche abbiamo più lavoro da fare ogni giorno, vero? In libertà uniamoci e facciamolo insieme con gioia, facciamolo insieme con moltissima gioia. Vanda! Sarà buono per tutta la gente! Sarà buono per tutti, veramente. Professoressa, grazie mille, grazie di cuore, veramente in bocca al lupo. Anche a te! Patrizia, grazie! In bocca al lupo a te! Vorrei ringraziare anch'io perché è stato bellissimo, grazie. Ciao! Grazie di cuore, veramente buon lavoro professoressa. Grazie a Vanda Diaz-Merced che è stata con noi, Astrofisica, ci ha raccontato veramente un universo, non è il caso di dire diversamente. è anche un messaggio molto, molto positivo e molto importante, credo. Su Slash Radio Web spesso facciamo incontri fantastici.